Ciao! Con questo bel mare di Capri, come resistere alla tentazione di tuffarsi e fare snorkeling per vedere quello che si nasconde sotto la superficie del mare? Sei pronto allora a fare snorkeling? Are you ready to snorke? So, let's go! Andiamo! 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 Ciao a tutti, se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale, metti un like e scrivi ciao nei commenti più sotto. Ciao al prossimo video!